Ciao amici di Why Not, benvenuti ad un'altra storia di cambiamento. Oggi qui con noi ci sarà Ilaria Pagani che di lavoro fa la ricercatrice biomedica ad Adelaide. Benvenuti in questo mondo insomma in cui si parla con gli italiani che hanno cambiato la loro vita. Sono andati a vivere all'estero, in questo caso sono andati a vivere in Australia con l'intento di ispirare un po' l'audience là fuori, di parlare con tutte quelle persone che in questo momento stanno pensando ad un cambio di vita, non trovano gli spunti, non trovano il coraggio, non trovano non sanno da che parte iniziare, raccontando storie di gente che l'ha già fatto potrebbe dare appunto quel aiutare, diciamo, quell'aiuto nel fare il primo passo appunto a cambiare la propria vita. Io sono Paolo Gallo, sono sempre qui appunto e ho il piacere, il grande onore di ascoltare tutte queste storie di cambiamento e quindi arricchirmi a mio modo. Se andate in giro negli altri video scoprirete che questo magico mondo di Why Not mi ha aiutato anche a me stesso appunto a cambiare la mia vita, visto che ho lavorato per 13 anni come contabile in Italia, ma questa è un'altra storia che appunto vi invito ad andare a vedere in qualche video che apparirà da queste, in queste, diciamo, in questo schermo, in questo momento. Allo stesso tempo vi dico, se ci seguite su YouTube, attivate la campanella, iscrivetevi al canale così non vi perderete nessun video. Se ascoltate invece in tutte le piattaforme podcast, se lo fate su Spotify, ad esempio, lasciate le varie stellettine, lasciate un commento che aiuterete appunto a crescere appunto a questo progetto. Adesso diciamo è proprio tutto per l'introduzione, quello che devo fare semplicemente è mandare la sigla! Why Not? Dimmi perché no, dai, dai, dimmelo, dimmelo, ogni sette giorni, tu ascolta poi fammi sapere perché, ascolta, ascolta, quando pensi di aver tutte le risposte, la vita ti cambia le domande, ed è lì che devi avere l'azzo nella mani, vai, mi sveglio e mi alzo, già stanco, non trovo più risposte per quello che faccio, la giornata la passa esplorando, le fatiche che mi porto accanto, non lo so, poi c'è Why Not? La soluzione ai problemi, perché no? Perché? Una nave su cui navigare, a te la rotta, scegli tu dove andare! Why Not? I like it, 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 Why Not? Hai capito benissimo, I like it, Why Not? I like it, Why Not? I like it, Oh, I like it, Oh, I like it. Ciao Ilaria e benvenuta a Why Not? Caffè Italiani in Australia. Ciao Paolo, ciao anche a tutti gli ascoltatori, grazie mille per avermi invitata. Ma grazie a te per il tuo tempo, insomma, in queste vite intense che abbiamo, poi lo vedremo nella nostra chiacchierata, tu sei piena di interessi, piena di cose da fare, quindi trovare un momento per raccontare la tua storia è veramente qualcosa di bello, quindi grazie di tutto questo. Senti, cominciamo da oggi, insomma, ricercatrice biomedica ad Adelaide, di cosa ti occupi? Allora, io faccio ricerca sul cancro, quindi studio i tumori del sangue, studio le leucemie e quello che faccio, ormai lo faccio da più di dieci anni qui in Australia, è cercare nuove terapie per i pazienti e cercare di dare a loro una vita migliore. Wow, che hai detto così, è veramente bello. Da dieci anni fai questo lavoro, hai detto? In realtà lo faccio da più anni, però qui in Australia da dieci anni. Ok, e come sta andando? Come si sono evoluti questi dieci anni, insomma, per quanto riguarda il tuo lavoro? In realtà sono andati molto bene. Allora, io ho fatto tutti i miei studi in Italia, quindi ho fatto, ho studiato biologia, a Varese, sono di Varese, quindi ho studiato in biologia a Varese, poi ho fatto il PhD sempre a Varese e poi ho fatto la scuola di specialità in genetica medica a Milano e finito il mio PhD, no, ho girato un po' tra Inghilterra, Roma, Milano ancora, poi Varese e poi finalmente sono arrivata in Australia dieci anni fa. E devo dire che l'Australia è davvero la terra promessa perché mi ha dato l'opportunità di poter crescere professionalmente, no, quindi sono arrivata qui che quasi non sapevo l'inglese, parlavo, non capivo poi l'australiano, no, la mia capa mi diceva ketchup together e io pensavo ketchup, cosa vuole? Dovevo mettere il ketchup nel patatino, dov'è il piccolo? No, ma, no, e penso guardando indietro che comunque ho fatto tanta strada, no, sono arrivata qui che non sapevo l'inglese e ora ho un mio gruppo di ricerca con sei persone, ho studenti, faccio tanto volontariato, aiuto anche high school student, tutto. Hai creato anche un'associazione giusto di volontariato? Sì, ho creato questa nuova associazione di pazienti affetti dalle leucemia melodecronica in Australia perché c'erano tanti gruppi di Facebook ma non c'era questa associazione, un'associazione incorporata, quindi ho iniziato tre anni fa, no, a consultarmi con i pazienti e finalmente quest'anno abbiamo creato questa associazione. Wow, e di che cosa si occupa? Qual è un po' l'attività di questa associazione? L'attività è appunto quella di dare supporto ai pazienti che sono affetti da questa malattia, ci siamo poi connessi con simili associazioni in altre parti del mondo e quindi i pazienti che saranno parte di questa associazione avranno anche l'opportunità di partecipare a conferenze a livello internazionale, possiamo fare advocacy con il governo, migliorare, come si dice, i loro rapporti con i GP, con i loro medici, fare divulgazione scientifica, offrire servizi di mental health, quindi siamo appena, siamo nuovi, no? Quindi avremo tutti questi progetti che verranno sviluppati col tempo e con gli anni. E senti, come mai, dopo che hai detto che avevi visto che c'erano tanti gruppi un po' sparsi ma non c'era, diciamo, una sorta di hub che potesse riunire tutte queste informazioni, qual è stato un po' il motore che ti ha portato appunto a creare un'associazione? Perché quando si crea l'associazione poi c'è tanto lavoro, voglio dire, no? Anche per farlo nel modo giusto e tante volte questo lavoro viene sviluppato, diciamo, al di fuori di quello che poi è il proprio orario di lavoro. Quindi come è iniziata un po' tutto questa cosa? Ma in realtà, come ti ho detto, no? Io ho iniziato ad avere questi dia tre anni fa quando, no, per il mio lavoro devo sempre andare a conferenze in Europa e quindi andando a queste conferenze sulla leucemia sono entrato in contatto con queste associazioni di pazienti e mi sono consultata con loro a lungo e ho imparato molto e ho deciso di creare questa associazione in Australia appunto per dare un aiuto ai pazienti perché ho detto io ho le conoscenze, ho le capacità e quindi posso fare qualcosa di più per aiutare altre persone. Wow, bene. E ci sei solo tu o ci sono altre persone? Sei riuscita a portare, a unire altre persone all'interno di questa associazione? Sì, abbiamo, adesso abbiamo creato un board, quindi c'è un'altra paziente, c'è una paziente affetta dalle leucemie che mi ha aiutata in questa cosa, l'ho tirata dentro, no? e quindi lei si è appassionata e poi abbiamo anche tirato dentro un'altra, un dottore, un clinico, un medico specialista che lavora sempre, che tratta i pazienti con questa leucemia e quindi è un'altra paziente che ha Sydney e quindi sì, abbiamo creato questo board un po' con persone da diverse parti dall'Australia e siamo pronte a partire e siamo tutte donne casualmente. Ma senti, hai già avuto qualche esperienza positiva grazie a questa associazione? Cioè hai già vissuto, diciamo, dei momenti che ti hanno fatto capire che questa è un'iniziativa importante e, diciamo, come posso dirti, positiva? Sì, perché abbiamo fatto da tre anni che facciamo meeting insieme, no? Che facciamo piani per migliorare la vita dei pazienti, no? E anche tutto il pianificare è comunque bello, no? Perché pensi, ok, cosa facciamo? E poi anche, ma siamo capaci di farlo? Magari facciamo baby step? E poi mi ha dato anche l'opportunità di conoscere tanti altri pazienti che hanno creato associazioni in altre parti del mondo e quindi parlando con loro ho imparato molto e loro quindi ci hanno anche offerto il loro sostegno per, appunto, imitare quello che fanno loro in altre parti del mondo qui in Australia. Quindi questo è stato bello, no? Il networking, no? Conoscere altre persone e avere anche il supporto di tanta gente che sono disposti ad aiutare. È bello vedere come tante volte da queste, diciamo, iniziative personali e poi se ne aprono altre più grandi, no? Che neanche avevi pensato prima. Ma no, assolutamente. Hai detto tu prima che sei arrivata dieci anni fa, ok? Sei arrivata per un'esperienza di vita, per studio, perché, insomma, volevi cambiare vita. Qual è il motivo che ti ha portato qua? E volevo chiedere se il piano era appunto rimanere a lungo o poco. Allora, la mia storia è un po' particolare, un po' penso come quella di tutti quelli che si trasferiscono qui in Australia. La mia, allora, è un po' diversa. Io sono arrivata qui in Australia con un visto che c'era dieci anni fa che si chiama Training Research Visa. Ok. Io non ho mai pensato di trasferirmi per sempre in Australia, ma quello che volevo fare era appunto cambiare vita, no? Quindi io, la mia storia è iniziata undici anni fa, ero andata a questo congresso in America dove ho conosciuto i miei capi e li avevo invitati a vedere il poster di un lavoro che stavo presentando e da lì è successo che mi hanno invitata a venire in Australia, nel loro laboratorio, per fare un'esperienza di sei mesi. E io ho detto, va bene, vengo. No, quindi ho impiegato sei mesi per preparare tutti i documenti e sono arrivata ad Adelaide il 2 luglio, quindi tra qualche giorno è il dieci anni, il mio anniversario. E sono rimasta un po' traumatizzata perché mi immaginavo l'Australia, no? Con sole, surf, Adelaide pioveva, freddo. Eh sì, perché sei arrivata in inverno, in pieno inverno praticamente. Sì, però ho fatto sei mesi, poi dopo questi sei mesi di training e research mi hanno offerto un contratto di lavoro e è da dieci anni che sono sempre nello stesso laboratorio, stesso istituto, sempre ad Adelaide. Wow, praticamente. E poi, ma come hai deciso poi di andare avanti? Perché appunto i sei mesi, immagino, se il piano iniziale era appunto di sei mesi, immagino che anche, che ne so, a casa magari avevi detto, eh, ci vediamo tra sei mesi o magari avevi preso degli impegni o magari, che ne so, c'erano altre cose. Come si è sviluppata un po' tutta la cosa? Ma in realtà è stato più che altro per motivi lavorativi, perché comunque non avevo un piano B, no? Io ho preso, sono venuta da sola e mi hanno offerto un lavoro e sono rimasta. Poi ho iniziato, no, a pubblicare il mio lavoro e poi ho conosciuto il mio marito, poi mi sono sposata e una cosa ho tirato l'altra e sono rimasta. Ma raccontiamole tutti questi punti, perché è vero, insomma, che le persone che più o meno ognuno ha la sua storia, però il bello delle storie è che sono veramente individuali, no? Cioè, nel senso, gli ostacoli che tu hai dovuto superare, non so, i pensieri che hai avuto, perché immagino che io parto, vado dall'altra parte del mondo, non so quanto tu sapessi dell'Australia in quel momento? Avevi studiato, avevi, non lo so, come ti eri preparata un po' al viaggio? Oh, no, ma io sono un po' naif, io faccio, prendo la vita come viene, no? Non ho fatto, non ho fatto molta ricerca, sono arrivata in Australia, ho dovuto chiamarmi a mamma, mandami i vestiti invernali, perché non avevo niente. Cioè, tu non ti eri, non sapevi, insomma, dell'esistenza dell'inverno da questa parte del mondo? No, no, avevo aperto la cartina, ho detto, ok, qui c'è Adelaide, ok, il mare è qui vicino, posso andare a vivere qui, e non penso, sono partita. Ok, e quindi, insomma, prima difficoltà, insomma, capire che, insomma, il freddo c'è anche da questa parte del mondo. Sì, e poi non sapevo, ad esempio, che ci fosse una comunità di italiani ad Adelaide, no? Quindi all'inizio è stato un po' duro, no? Trovare gli amici, conoscere qualcuno, trovare cosa fare. Come hai agito in quella situazione lì, insomma? Mi sono iscritta, perché facevo canottaggio in Italia, quindi ho trovato una società di canottaggio qui ad Adelaide, e quindi mi sono iscritta, ho fatto canottaggio, ho iniziato a conoscere persone, e alcune di queste persone che ho conosciuto dieci anni fa sono ancora mie amiche, e ho fatto, perché c'erano i mondiali master di canottaggio a Ballarat, nel 2014, ci ho detto, perché no, buttiamoci, e mi sono allenata e ho fatto anche i mondiali master di canottaggio. E allora, vedi che ci sono, cioè, insomma, hai fatto i mondiali per chi? Per l'Italia o l'Australia? Per chi hai gareggiato? Li ho fatti per l'Italia. Ah, quindi erano i mondiali, quindi i mondiali di canottaggio a Ballarat? Master. Master, quindi li hai fatti, nel senso, perché sei riuscita a entrare, come sei riuscita a entrare nella squadra? Mi sono iscritta a questa società, ci siamo allenate e poi ci siamo registrate, perché in realtà come master non hai qualificazioni, no? Chiunque può andare. Però, vabbè, non abbiamo vinto, ma non siamo stati scandalosi, abbiamo fatto un buon tempo, una buona gara e ci siamo divertiti, un'esperienza. Ma cavolo, ma non è da tutti fare i mondiali di uno sport, diciamo, no? Cioè, nel senso, e poi come è andata? Sei andata avanti? Nel senso, hai continuato a gareggiare? Perché poi ci sono le Olimpiadi. Cosa facciamo? Non facciamo le Olimpiadi? No, non ci sono le Olimpiadi per i master, basta. Si ferma il mondo. Però il canottaggio ci sono le Olimpiadi, no? Il canottaggio c'è. Il canottaggio sì, però non al mio livello. Poi comunque nel frattempo ho deciso anche di diventare surf life saver. No. Sì, è sempre stato il mio sogno, guardavo Baywatch, sono arrivata in Australia e il mio marito, allora fidanzato, mi ha detto ma sai che qua, quando io ero piccolino, facevo i nippers, no? Qua tutti, quasi tutti. Che spieghiamo, insomma, per chi non sa nulla dell'Australia, i nippers sono la domenica mattina, generalmente, almeno qui a Sydney. Tutti i bambini vanno, bambini fino a, non so, dieci anni, diciamo la cosa, sono tutti piccoli, insomma. Dieci anni. Fanno questi corsi di nuoto, diciamo, tutti insieme, grazie appunto ai Latkar che gli insegnano a conoscere l'oceano. Dico bene? Esatto. Poi sono molto aperta, no, a provare nuovi sport, nuove cose, no? E lui mi ha detto ma perché non provi a fare surf life saving, no? Così puoi conoscere qualcuno, ti diverti, fai canottaggio sull'oceano. E ho detto ma perché no? E allora ho fatto il corso per diventare bagnina. E come è andato questo? Ma sei quelle vestite di giallo, per dire? O proprio il... No, quella vestita di giallo. Ok, ok. Ok, perfetto. Gli altri sono i lifeguard, quelli vestiti di blu. Quelli di Bond Rescue, per chi, insomma. Quelli di Bond Rescue. Sì, ma non potrei mai fare la bagnina a Sydney con le onde che avete, le Riff. Però ad Adela è tranquillo, non è una baia, non ci sono le onde, no? Quindi... Ma senti, ma com'è andato questo corso? Come... Cosa hai dovuto fare per fare questo corso? Ti insegnano like first aid, no? Quindi questo è molto bello. Quindi magari raccomando anche a tutti di imparare, di fare un corso di first aid. Quindi no, ti insegnano a fare la CPR, come risuscitare qualcuno, come dare primo soccorso, la bombola di ossigeno, no? Tutte queste cose, no? Che sono, secondo me, molto utili da sapere. Ti insegnano ad usare la radio. E poi, vabbè, devi fare... Devi superare delle prove pratiche, no? Quindi nuotare in oceano, correre, fare tutti i rescue, che sono divertenti. E poi, per passare il test, no? Devi... Ti fanno... Ti mettono alla prova, no? Quindi agli scenari e devi soccorrere le persone o un manichino. E poi devi fare i soccorsi in acqua. Quanto è durato questo corso? Non mi ricordo. Qui ad Adelaide era, penso, sei mesi. Forse un po' di sei mesi. Ok. Quindi sei mesi dovevi andare tutto il fine settimana o come funzionava? No, è durante la settimana o a volte nel weekend. Ok. È stato molto bello, mi è piaciuto molto. E poi sono diventata Magnina nel 2018. Poi ogni anno devi fare il... Si chiama proficiency test. E quindi devi fare ancora il dry proficiency. Quindi devi ancora... Però devi fare CPR, resuscitation in... Diciamo il primo soccorso. Sì. E poi c'è la prova pratica in acqua, perché devi dimostrare che sei capace di correre e nuotare. Quanto è la prova pratica? Penso... Quanto devi nuotare? È run, swim, run. Quindi 200 metri corsa, 200 metri nuoto, 200 metri corsa in meno di 12 minuti. Wow. Questa è tosta un pochettino, no? Secondo me è tosta. Secondo me è tosta. Anche perché nuotare nell'oceano non è come nuotare in piscina. Esatto. Quella è la difficoltà. Cioè, 200 metri come li calcolano? Devi uscire fuori 100 metri e torni indietro 100 metri, immagino. Giusto? Sì, corri, poi nuoti 200 metri, poi torni indietro. Ok. E poi torni di nuovo. Ok. E quella è la parte difficile, perché poi se becchi la corrente... E poi immagino che ci sia anche un po' di studio, di informazioni, a riguardo di come riconoscere le varie correnti, no? Perché a me questa cosa, quando l'ho scoperta, diciamo... Io ho sempre andato al mare in Liguria, voglio dire, quindi ogni tanto c'erano i cavalloni, ma neanche più di tanto. Quando si arriva a quell'oceano, si comincia a guardare l'oceano, ci si butta dentro come se si fosse a affinare Ligure, in realtà non è così, e poi cominciano a spiegarti un po' la corrente, per me che appunto, io sono sempre stato ignorante in materia, ma ha spiegato, e quindi ho cominciato a vedere le correnti nell'oceano. E una cosa che mi hanno spiegato fin da subito è il fatto che tante volte le persone affogano, non tanto perché non sanno nuotare, ma perché entrano nella corrente sbagliata e poi si agitano per voler tornare indietro, e ovviamente nuotare controcorrente in oceano è quasi impossibile, e quindi a quel punto poi iniziano a, diciamo, affogano in quel senso lì, perché presi dal panico, quando in realtà mi hanno detto se ti dovesse capitare, invece fatti trasportare dalla corrente fuori e poi ritorni dentro. Sì, esatto, sono le RIP current, scritto RIP, che sono queste correnti che ti trascinano, e hanno detto anche se tu, anche i nuotatori più forti fanno fatica comunque a nuotare controcorrente, quindi come dici tutti, fai trasportare, ma devi cercare di stare calmo, no, però ho capito che magari a Sydney, dove ci sono anche tutti i cavalloni, le onde, magari sia un po' difficile stare calmi, però, vabbè, chiamate soccorso, però state calmi e comunque ti fai trasportare, poi dopo nuoti o a destra o a sinistra e cerchi di uscire, no? Sì, perché poi non è soltanto il fatto di stare calmo, di non affogare, è che tu comunque lo stai facendo e sotto magari c'è qualche squalettino, lì che gira, perché quella è la seconda cosa, capito? Perché la corrente, diciamo, l'oceano è un posto bellissimo, però, insomma, non proprio sicuro. Eh, ma noi ad Adelaide non abbiamo tutti questi cavalloni, ci sono gli squali, però sono squali, adono, big squali, e li vedono con l'elicottero e quindi evacuano tutto, no? Almeno avete gli squali, anche. Io sono cresciuta a Varese, dove ci sono i laghi, no? Quindi figurati il lago, il piatto, no? Al massimo c'è paura del mostro di Loch Ness, del drago che salta fuori. Sì, o i singuri, no? Esatto. Qualche singuri, ma non so, qualche nutria, però. Non squali, ecco. No, ma anche, comunque, nonostante non ci siano tantissime onde qui ad Adelaide, comunque è sempre difficile nuotare nell'oceano e se ci sono un pochino di onde, no? Senti proprio la corrente che ti trascina un po'. Sì. Perché tu nuoti, like, parallelamente alla costa, no? E quindi è difficile se ci sono le onde. Sì. No, però è una bella esperienza, no? Ci sono anche gare di nuoto sull'oceano, tipo da 400 metri, e quelle sono molto belle da fare. Ma senti, ma tu hai qualcosa che lo fai adesso regolarmente? Cioè, presti servizio, fai volontariato di Lifesaver o no? No, no, servizio devi fare almeno quattro domeniche di servizio all'anno e poi se vuoi puoi fare più ore. Quindi il servizio è dall'1 alle 6 e quindi puoi fare... E in patrol si chiama patrol. Quindi non so se qualcuno che ci ascolta, no, vuole provare un'esperienza. Lì, ma ci si iscrive, ci si iscrive, si fa il test e poi si diventa idoneo. Sì, oppure se avete dei bambini, no, iscrivete lì per fare i nippers ed è molto bello. Qual è una cosa? Tutti i bambini e i genitori sono super seguiti, hanno le tavole ed è bello, no? Sì, 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 no, forte che ogni tanto vai lì a vedere, ci sono queste onde di 4-5 metri e ci sono sti bambini che nuotano e i genitori sono lì che guardano, fanno i video, io li guardo e dico, se fosse in Italia ci sarebbe qualcuno lì a gridare, no, non andare, torna indietro. Però vabbè, basta conoscere le cose e le sue cose si fanno. Senti, in che momento della tua esperienza hai capito che, insomma, non saresti più tornata in Italia? Ma in realtà direi già da subito, no? Sì? Sì, da quando ho conosciuto, in realtà diciamo dopo un anno e mezzo che sono stata qui, no? Dopo che ho conosciuto il mio fidanzato, il mio marito, no? E poi anche per il lavoro, no? Ho deciso che non sarei tornata, però in realtà vorrei tornare in un futuro in Italia, cioè non mi vedo diventare vecchia qui in Australia, cioè vorrei tornare in Italia quando sarò vecchia. Però, non so, ho comprato casa, sono diventata cittadina australiana, no? Ma mi piace poter pensare, no, che ho questa scelta, no? Che posso decidere se voglio rimanere qui o se voglio tornare, se avessi diverse opportunità per tornare. Forse questa è una domanda che uno non smetterà mai di farsi, no? Il fatto di... che è un po' il motto, cioè il fatto di, come hai detto tu, il fatto di questa specie di illusione di avere una seconda possibilità, non so, ti dice, ti fa sforzare forse la decisione sempre un giorno un po' più in là, no? Che dici? Sì, no, è vero, perché come ti ho detto io non mi vedo diventare vecchia qui in Australia, no? Però allo stesso tempo ho comprato casa, mio marito è ostoliano, no? E in realtà non ho mai... non mi sono mai attivata per cercare lavoro in Italia, no? Adesso ci sono nuovi centri di ricerca a Milano, come lo Human Technopole, quindi potrei far domanda lì, ma in realtà non lo faccio, perché in realtà sto cercando di fare carriera qui in Australia, dove sono. Quindi magari anche per comodità preferisco rimanere qui, però sai, mi piace tenere aperte le diverse strade anche in futuro. Poi in realtà c'è anche il problema, no? Che io comunque sono arrivata qui in Australia, che avevo 36 anni, e i miei genitori, no? Stanno diventando anziani e quindi mi chiedo, magari, non lo so, anche non stanno molto bene, magari un giorno devo tornare in Italia per aiutarli. Poi mio fratello ha due bambine piccole e comunque mi piacerebbe tornare e vederle, però in realtà mi piace anche la vita che ho qui, no? Quindi secondo me è una scelta molto difficile, quella decide di rimanere o andare. È il grande dilemma, insomma, no? E più passa il tempo, più diventa difficile, anche perché... È vero. Si compiono delle scelte poi, come hai detto tu, compro casa. Compro casa, ma in realtà è più che altro, no? Mi trovo bene qui, mi piace la mia vita, sono tranquilla, sono felice, però allo stesso tempo, no? Mi manca la casa italiana, no? Quindi secondo me è un po' un dilemma che magari tante persone hanno, magari non tutte, però alcune persone hanno magari questo dilemma, e pensare, ok, finirò la mia vita qui, oppure tornerò, oppure cosa succederà? Il tuo compagno australiano è già stato in Italia? Che idea si è fatta del nostro paese? Allora, il mio compagno australiano, lui è originario dell'Inghilterra, della Cornovaglia, si è trasferito qui in Australia quando aveva nove anni, quindi lui ama l'Europa. E' venuto in Italia giusto il mese prima che scopiasse il Covid in Italia, e ha avuto uno sciocco culturale quando è venuto la prima volta, però allo stesso tempo si è innamorato dell'Italia. Cioè diciamo all'inizio non è stato facile, ma poi dopo si è innamorato. Cosa l'ha sorpreso più di tutto? Cosa l'ha scioccato più che altro? Perché parliamo tantissimo, e allora lui dice che quando parliamo sembra che siamo arrabbiati. Lui dice, ma perché litighi con tua mamma? Io, no ma non sto litigando, stiamo parlando. Lei è rimasto un po' sconvolta da questa cosa, che urliamo sempre, c'è sempre un po'. Ah sì. Lui alle cinque di sera si chiudeva in camera al buio, no? In silenzio. È una cosa, guarda che effettivamente è una cosa che mi è stata fatta notare anche a me, no? Che alle volte uno dice, sembra che stai litigando, in realtà no, sto discutendo, sto parlando, sto anche semplicemente pensando da voce alta, e sembra che, insomma, anche per come ci agitiamo magari, per come è, però poi dopo gli è piaciuta, insomma, è entrato un po' nella parte, nel nostro mondo. No, no, lui piace, no, no, lui piace l'Italia, gli piace tutto il cibo, il caffè, tutto quanto, lo stile di vita. No, lui verrebbe con me in Italia, a lui piace. Quindi, insomma, magari c'è nel futuro. Senti, per quanto riguarda invece il tuo lavoro, hai detto che in Italia magari adesso si stanno sviluppando altri centri, parlavi di Milano e tutto. Credi che, diciamo, l'esperienza in Australia possa essere importante per una ricercatrice, nel caso in cui volesse rientrare in Italia. Com'è questa parte qua? Ma secondo me sì, secondo me per qualsiasi ricercatore in ogni parte del mondo è veramente importante fare un'esperienza all'estero. Ad esempio, ci sono tanti miei colleghi australiani che sono andati in America e poi sono ritornati in Australia. E secondo me è un'esperienza che consiglio a tutti quanti, perché comunque viaggiare, conoscere nuove culture, nuovi ambienti è comunque qualcosa che ti apre la mente, ti aiuta a crescere personalmente, conosci anche nuove persone e poi soprattutto anche lavorativamente, puoi imparare nuove tecniche, puoi imparare qualcosa che magari non ti viene offerta nel laboratorio in cui sei. La cosa però che è difficile per un italiano è poter tornare. Ad esempio gli australiani vanno in America, ad esempio questa mia amica l'è andata a Los Angeles, alla City of Hope, poi si è trasferita alla John Hopkins e ora è tornata e lavora al Peter Mac come group leader. Il problema per un italiano, come ad esempio nel mio caso, è che magari sono group leader in Australia e di certo non torno in Italia per lavorare come postdoc. Se torno in Italia voglio lavorare come group leader con uno stipendio dignitoso. Chiara, e questo è difficile. Secondo me sì, ma comunque ormai manco da dieci anni, io non so bene come sia la situazione attuale, no? Sarebbe bello poter parlare con qualcuno che effettivamente è tornato in Italia dopo tanti anni e capire un pochino come va. Come è andata. Ti ho anche detto che non mi sto attivando per cercare un lavoro in Italia, quindi in realtà non ho più idea di come stiano gli stipendi. Quando ho lasciato l'Italia il mio stipendio era di 20.000 euro all'anno. Che sarebbe un po' difficile ritornare e viverci, voglio dire. Ma in realtà magari vivi anche in Italia con questi stipendi, no? Perché comunque il costo della vita è anche meno caro che qui in Australia. Però è più chiaro la soddisfazione lavorativa, no? L'opportunità di fare le stesse cose che faccio qui. Chiaro, chiaro. Sì, secondo me è più proprio il fatto di rientrare e andare avanti nella tua carriera, non rientrare e tornare dieci passi indietro e poi magari ritornare a quel livello in cui sei adesso. Giustamente. Quindi è più un tema di opportunità per chi ha già la tua esperienza. Questa è una cosa molto interessante. Se in futuro farai qualche ricerca, fammi sapere, insomma, così almeno si può anche confrontare le due cose. Ma senti, invece per un ricercatore in Australia, cioè nel senso, perché magari anche come sei arrivata tu dieci anni fa, insomma, magari avevi già fatto le tue esperienze in Italia lavorative, tu avevi già fatto le tue esperienze lavorative, giusto? Perché hai detto prima sei arrivata più o meno a 35-36 anni, hai detto? No, a volte 36 anni. No, ma io comunque avevo già fatto le mie esperienze lavorative, perché avevo lavorato a Varese per un po' di anni, poi sono andata in Inghilterra, a Leicester. Ma sempre nel mondo della ricerca? Sì, sempre nel mondo della ricerca. Lavoravo all'MRC, al Medical Research Council di Leicester, e da Leicester mi sono trasferita alla University Tor Vergata di Roma, poi ho lavorato all'IFOMBIEU a Milano. Quindi no, ho viaggiato, ho sempre viaggiato tanto. Quando vivevo a Tor Vergata, in realtà vivevo al campus universitario, che è a Tor Vergata, vicino a un campo nomadi, e non c'è niente, ci sono solo campi, è stata un'esperienza traumatica. Però vabbè, lavoravo anche di notte, quindi vabbè, la mia vita era lavorare, poi non ce l'ho più fatta e sono tornata a Varese. Ma senti, avendo questa esperienza anche, diciamo, in Italia, ma anche all'estero, appunto, in Inghilterra, cosa secondo te qui ti ha attratto di più rispetto a quelle esperienze lì? Perché poi appunto nel momento in cui hai preso questo lavoro ad Adelaide, ma l'hai continuato dieci anni dopo sei ancora lì, che cosa ti ha attratto, ti ha tenuto lì, insomma, ti ha convinto del tuo lavoro rispetto alle altre esperienze che hai fatto? Beh, innanzitutto il fatto di avere un contratto di lavoro vero e proprio. I ricercatori sono considerati appunto come una professione qui in Australia, quando invece in Italia consideravano i postdoc più come old student, studenti anziani, no? Ma anche il fatto con cui sono arrivata qui ad Adelaide, in questo centro di ricerca super nuovo, super moderno, appena aperto e opportunità di comunque di crescita, no? Poi qui ad Adelaide nel mio istituto hanno offerto tanti programmi per imparare a fare, ad esempio, science diffusion, parlare alla radio o parlare con la gente, più che stare in televisione, tanti corsi anche di formazione personale, che non avevo mai l'idea potesse resistere quando appunto lavoravo in Italia, ma anche in Inghilterra, no? E' qualcosa che ho scoperto appunto qui in Australia, il fatto di poter parlare tanto con i pazienti e poi comunque penso anche al gruppo di ricerca in cui appunto sono finita, no? Appunto è da dieci anni che lavoro con lo stesso capo e mi trovo molto bene con i colleghi, con il capo, l'environment. Quindi diciamo in un certo senso l'esperienza lavorativa, il contratto, ma anche la dinamicità delle esperienze lavorative. Sì, ma penso che è quello che fa la differenza, no? Appunto l'ambiente in cui ti trovi, persone comunque educate, che comunque ad avere supporto, no? Ed è qualcosa che non avevo quando lavoravo in Italia o anche solo in Inghilterra. Molto interessante. E quindi consiglieresti, immagino, un'esperienza qui in Australia a un ricercatore italiano che sta pensando al suo prossimo, al suo next step di carriera, un'esperienza in Australia la consiglieresti a pieni voti, mi sembra di capire. Sì, io la consiglierei assolutamente. E da dove inizieresti tu, se fossi adesso in Italia, insomma, avendo la tua conoscenza del mondo del mercato australiano, da dove inizieresti un po' a ricercare la tua opportunità? Ma secondo me, ma dipende, no? Dipende se ad esempio hai fatto il PSD in Italia, se hai fatto il PSD in Italia, puoi venire qui in Australia. E per chi ha comunque, per chi è qualificato, quindi per chi ha un PSD o fa qualcosa, ci sono dei visa particolari, sono appunto i talent visa, e quindi, sì, anche se uno sta, lavora in America o in qualsiasi altra parte del mondo, può comunque venire qui in Australia con i talent visa e possono iniziare a lavorare come scienziati in qualsiasi campo. Molto interessante. Se sei qualificato, secondo me è più facile poter venire in Australia e trovare lavoro. Ok, ok. Almeno nel mio campo, non so per quanto riguarda ad esempio altre discipline, no? Però comunque nel mio campo, non è così difficile venire. E cercheresti? È diverso qualificato. Cercheresti lavoro direttamente da fuori? Sì, ma il mio consiglio è comunque aprire Google, no? Cercare di capire quali sono i centri di ricerca, i gruppi, comunque se lavori nel mio campo, no? Tu devi sempre essere informato sulla letteratura mondiale, no? Su chi pubblica. E quindi ad esempio io conoscevo, leggevo sempre gli articoli del professor Tim Hughes, Davido Ross, no? Che sono i miei capi attuali, no? E quindi per venire qui io ho mandato un'email a loro, li ho invitati a vedere il mio poster e da cosa, no? È nata cosa. Quindi quello che dico sempre è di essere proattivi, non aspettare che le opportunità ti cadano addosso, no? Ma ti devi creare le opportunità. Quindi il mio consiglio è perché in Italia, no? Mandate un'email a Raffica, no? E-mail ai professori dei centri di ricerca in cui vorresti lavorare. E se loro vogliono, hanno l'opportunità, vi... Da cosa nasce cosa e si può iniziare a venire a fare uno scambio e poi da lì, no? Uno può anche rimanere. Molto interessante. E consiglieresti Adelaide come città? Ma io consiglierei Adelaide? Ma sì, ma Adelaide per me è una città molto bella, no? Però dipende che tipo di ricerca uno voglia fare, no? Perché ci sono tantissimi centri di ricerca a Melbourne, a Sydney, a Brisbane, no? Quindi dipende un po' dove uno... in che gruppo uno voglia lavorare. Qui ad Adelaide stanno costruendo questa giant biomedical city. Adesso hanno appena costruito questo nuovo building dove si farà la prima terapia protonica dell'emisfero sud-australe. E quindi c'è questo nuovo building che deve essere riempito e quindi ci sarà opportunità di lavoro per tantissima gente anche dall'estero. Quindi per dire il macchinario che stanno costruendo è unico al mondo ma ce n'è un altro al San Raffaele a Milano, penso. E quindi magari ci potrà essere opportunità per tecnici di Milano ad esempio di venire qui a lavorare, no? Oppure per tecnici qui andare a Milano per imparare un po' i metodi. Molto interessante anche questa cosa qua. Senti, in chiusura, parlando di quello che è la... Insomma, tu appunto hai da tanti anni che lavori nella... Diciamo hai una carriera nella ricerca sul cancro, ok? E questa è una domanda che avevo fatto in passato anche ad un altro ricercatore su questo tema. Alle volte si pensa, si ha l'impressione quasi che più si va avanti e più, insomma, più le cose peggiorano, no? Perché si sente sempre appunto di persone appunto malate di cancro, se ne scoprono di nuovi. E sembra quasi che, insomma, la percentuale di persone che nella loro vita hanno a che fare con questa malattia è sempre più alta, ok? È realmente così? È un'impressione veritiera? Tu che ci lavori, insomma, quasi in questo mondo. Qual è la tua sensazione, positiva o negativa? Anche, diciamo, in termini futuri, di quello che sarà il futuro. B2Bot, quindi secondo me è vera questa cosa, che ci sono più persone che sono ammalate di cancro e quindi fa anche un po' paura la cosa. Non so perché magari, non so, 30 anni fa non c'era, la gente magari moriva e non c'era modo di diagnosticare perché. Comunque sì, ci sono comunque più persone che vengono diagnosticate con cancro e tante di queste persone muoiono, però tante di queste persone hanno anche un good outcome, perché comunque la scienza sta migliorando. Quindi io sono positiva in questo senso, perché davvero ho notato che ci sono stati passi giganti in terapie o nel campo scientifico, ma c'è ancora tanto che dobbiamo fare. E questo è quindi perché è importante finanziare la ricerca e aiutarci a trovare nuove terapie per i pazienti. Ad esempio, noi scienziati lavoriamo giorno e notte per cercare nuove cure e una cosa che non ho detto è che, per esempio, il mio lavoro non è un lavoro normale, nel senso che non sono pagata dal mio istituto, ma devo cercarmi i soldi da sola. Quindi se ci sono grant ho un lavoro, se non ci sono grant il lavoratorio chiude. E adesso sono anche in una posizione in cui devo cercare i soldi anche per pagare gli studenti o le persone che lavorano con me. E questi soldi da dove arrivano? Cioè chi finanzia? Allora, nel mio caso la maggior parte dei soldi vengono da donazioni, quindi da grant. Quindi tu, diciamo così, la maggior parte del mio tempo è spesa a scrivere progetti di ricerca e tu quindi applichi a questi concorsi e chi vince, no, appunto vince il grant. E i miei soldi sono stati donati da Cancer Council e dall'Euchemia Foundation, quindi da Philanthropic Association. Ma ci sono anche grant governativi, gli NHMRC, National Health Medical Research Council, che provvedono, come si dice, provide my funding for your research. Ok. Sì, tipo, fanno arrivare i soldi per la tua ricerca, in sostanza. Ma devi applicare, sì, ma devi applicare, quindi devi competere con altre persone a livello nazionale e la success rate, il tasso di successo è veramente basso. Ok. E va in base al progetto, cioè nel senso, perché si sceglie un progetto di ricerca piuttosto che un altro? Sì, va in base al progetto, quindi alla qualità del progetto. Il progetto deve essere innovativo, il progetto deve avere un impatto, ma anche dipende se tu applichi per un fellowship. I fellowship sono appunto i soldi per il tuo stipendio. Diciamo che 20% dell'applicazione è il progetto e l'80% è su di te. Quindi devi scrivere, ad esempio, se hai un piano per progressione di carriera, nei prossimi cinque anni, se hai un mentoring plan, se hai institutional leadership, se fai science communication, tutte queste cose, no? Quindi l'80% è riguardo a te. Se pubblichi, se il tuo lavoro è citato, se hai un impatto. E quanto potrebbe durare un progetto? Diciamo, tu scrivi questo progetto, ti arriva il fondo, quanto potrebbe durare, diciamo, mediamente? Allora, ci sono progetti da un anno e altri progetti di tre anni o cinque anni. Ma il progetto magari dura anche dieci anni, però i fondi per il tuo stipendio, i fondi per il progetto sono magari di un anno o di tre anni. Quindi qui mi si apre un mondo, diciamo, per quanto riguarda il lavoro del ricercatore. Cioè, nel senso, quanti progetti... Un lavoro duro! Esatto, ma quanti progetti può lavorare insieme allo stesso tempo il ricercatore, diciamo? Ma io sto lavorando a sei progetti insieme, allo stesso momento. Infatti il mio cervello a volte... Boom! Boom! No, perché ovviamente tu scrivi un progetto per un, diciamo, per un tema, ma allo stesso tempo magari ne hai già un altro che sta andando avanti, però sai benissimo che questi progetti poi ti danno anche da vivere, banalmente, a livello di vita. Ti paga le bollette, ecco. Eh sì, ma magari scrivo progetto, magari su un grant, su un unico progetto e nel frattempo uso parte di questi soldi per coprire magari i progetti dei miei studenti, perché gli studenti devono avere progetti diversi. Wow! E poi cerco di fare in modo che i miei studenti crescano abbastanza per poter applicare i loro fondi, no? E chiedere magari qualche soldino per poter coprire i costi dirigenti. E così anche il gruppo di ricerca cresce, diciamo, diventa più forte, con più conoscenza e ha più possibilità poi di successo nei vari progetti. E quindi questi progetti poi alla fine, come si capisce se quella cosa che avevi progettato poi alla fine ha successo? Devi scrivere un articolo, devi scrivere un articolo che è appunto revisionato, no? Ci sono diverse case editrici, sì, non sono proprio case editrici, ma diciamo così in italiano, no? Quindi pubblichi il tuo articolo, il peer review article, no? E l'articolo deve essere citato da altre persone, ma fondamentalmente, no? Tu vuoi fare qualcosa che sia applicato nella clinica, che sia applicato nella quotidianità dei pazienti. Quindi così è come tu misuri l'impatto del tuo lavoro. Ok. Nel mio lavoro noi facciamo lavoro traslazionale, quindi abbiamo tanti trial clinici e quello che facciamo può essere applicato nella diagnosi dei tumori, o ad esempio se testiamo un nuovo farmaco, no? Verrà usato nei trial clinici. E quindi questo è l'impatto. Fai qualcosa che poi viene usato. Capito. Non rimane lì, no? Nel cassetto, no? Deve essere appunto usato, no? E deve appunto aiutare a migliorare la vita delle persone, no? Deve beneficiare qualcuno. Wow, ok. Mi hai aperto un mondo incredibile, avrei altre 300 domande a riguardo. Magari un giorno potremo fare un panel solo di ricercatori per spiegare tutte queste situazioni. Ma bello, facciamolo. Senti, ma a livello di prevenzione, come va? Perché capisco la ricerca sul cancro, tutti questi nuovi, diciamo, nuove cose che si scoprono e forse per quello che se ne sta di più, perché 30 anni fa semplicemente un cancro, un tipo di tumore non si conosceva in quel momento lì. Però a livello di immagini, di ricerca, di come diagnosticare un particolare tipo di tumore, allo stesso tempo sta crescendo la parte di prevenzione, giusto? Sì, no, sta crescendo. Poi io sono anche volontaria per Cancer Council, non so se l'hai mai sentito parlare, no? Soprattutto sulle creme da sole, la crema solare. Sì, quindi quando ci sono, non so, gare sportive, no? Io sono al banchetto a dare la crema solare, no? Quindi in Australia soprattutto è molto importante, quindi lo ricordo ai nuovi arrivati, il sole non è come quello che c'è in Italia o in Europa. Anche se metto la 50 e comunque faccio il canottaggio sul fiume, ci sono stati giorni in cui ho messo la protezione 53 volte e mi sono ostionata. Quindi è importante mettere... Ho una storia a riguardo, ti faccio finire e poi dopo ti racconto il mio impatto con il sole. Vendono anche, non so, maglia, manica lunga che sono UV protectors, ricordatevi anche il cappellino, quindi stiamo già facendo prevenzione, no? Sì. E poi ci sono degli screening, no? I national screening, aiuto anche a promuovere quelli per bowel cancer, cervical cancer e breast cancer screening. Ok. E quindi invito tutti quanti di andare a fare la mammografia, fare bowel cancer screening e cervical screening. Così almeno uno può sempre fare il proprio controllo, ma in chiusura, no? L'aneddoto riguardante il sole, io sono arrivato qua, era aprile, quindi ho detto, beh, non è più estate, quindi già stiamo andando verso l'autunno, faccio un camp di calcio, mattino, erano le otto e mezza, ho detto, mica mi metto la crema, io non la mettevo mai, cioè nel senso c'ho la pelle dura, no? E sono sempre stato, non l'ho mai messa quando sono andato al mare, insomma, non mi sono mai scottato. Quindi ho detto, vabbè, non la metto. Mi sono bruciato qua sotto le occhi, qua si è staccata la pelle, cioè io sono stato tre giorni, si è staccata la pelle dal tanto che mi sono bruciato e da quel giorno lì basta, d'inverno, d'estate, d'autunno, anche quando non c'è il sole, io la crema la metto sempre, ce l'ho sempre nel mio zaino, perché poi, no, poi a parte che scopri che da questa parte del mondo, insomma, il sole fa molto più male se non c'è appunto, diciamo, se non ci si mette la crema banalmente, ma poi è proprio un sole diverso, cioè lo senti proprio alla pelle. Tipo a casa mia in Italia posso prendere, vabbè, non dovrei dirlo, ma prendo il sole sul balcone con la nivea. Sì, esatto, per accentuare, diciamo, la bronzatura. No, qui devo mettere anche la protezione, anche in inverno metto sempre la 50 sotto al fondo tinta, perché ho notato che ho più macchie sulla pelle e poi rovina anche la pelle, no? Più rughe. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Senti, in chiusura, l'ultima domanda madre di tutte le un po' le interviste, qual è la tua definizione di cambiamento? Ma la mia definizione di cambiamento è coraggio, è trovare una vita migliore e serenità. Mi piace, serenità finale mi piace. Sì, perché ero molto depressa quando ero in Italia e l'Australia è stato un cambiamento per me ed è stato un cambiamento positivo che mi ha aiutato a trovare pace, serenità e felicità. Sì, anche perché tu hai cambiato vita non, diciamo, tra i 20 e i 30, quando ancora non si ha un grande trascorso, diciamo. Tu l'hai cambiata già che avevi già un bel trascorso tra Italia e l'Estero, insomma. E quindi a maggior ragione, c'era più una consapevolezza dietro quel avevo bisogno di cambiare. Sì, infatti. Bene. Ilaria, è stato un grande piacere, ti ringrazio per questa chiacchierata, insomma, sono sicuro che la tua storia ha dato molte indicazioni. Come vedi, all'inizio dicevi, no, beh, poi sono sposata, ho fatto così, no? La volevi chiudere lì, i dieci anni di vita. In realtà ci sono mille cose da raccontare nelle storie delle persone. Beh, grazie mille, è stato un piacere conoscerti e spero di essere stata un pochino di aiuto a chi, non so, magari volesse provare a fare una carriera scientifica qui in Australia. Sicuramente. Alla prossima, Ilaria. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao a tutti e noi ci vediamo alla prossima storia di cambiamento, sempre qui a Why Not Caffè Italiani in Australia. Ciao! Ciao a tutti e noi ci vediamo alla prossima.